Allora, adesso andiamo ad applicare quello che abbiamo visto ad alcune funzioni ideali di variabile reale, quindi noi dovremmo mettere da questa parte l'insieme X con tutti gli elementi di R, facciamo una retta orientata e da quest'altra parte un'altra retta orientata perché devo andare da R a R, poi qua che ne so, ci sta un elemento X, poi per ogni elemento X devo mettere la freccia che è da X, va su F di X, dovrei fare così, però c'è un modo più intelligente, la mia funzione stavolta va da R in R, questo non è un modo tanto stupido perché io ho compattato l'espressione del mio dominio e codominio su una retta orientata di qua e di là, il mio insieme invece disegnato come una patata lo disegno come una retta orientata va meglio, però non è molto, perché il problema è che quando comincio a mettere un po' di frecce, il problema è che i punti qua sono infiniti, infinite frecce non si capisce più, allora come questa non è niente, non si può capire che cosa sia, perché la lettura di che cos'è la funzione tu la fai completamente in un modo diverso, allora come si fa? Si ricorre al concetto di grafico, allora che cos'è il grafico di una funzione in generale? Io ho una funzione da X a valori in Y, il grafico di F, si scrive G di F, è l'insieme delle coppie X, F di X che sono contenute in X per Y, quindi è un sotto insieme del prodotto cartesiano di X per Y, chi ha il prodotto cartesiano è l'insieme delle coppie ordinate, primo elemento è un elemento di X, secondo elemento è un elemento di X, però il grafico non sono tutti gli elementi del prodotto cartesiano ma sono solo quelli che hanno la prima coordinata un qualunque elemento di X e la seconda coordinata invece non hanno un qualunque elemento di Y ma hanno esattamente F di X, non è possibile che non ci sia un F di X, perché se questo è il dominio ogni arciere ha una freccia, ogni arciere spara un'altra cosa, per esempio, 1 su X e il dominio non sarà tutto R, ma se X è dominio ogni arciere spara, per definizione la funzione ogni arciere spara, non lo so, 30. allora andiamo a vedere come si sostanzia questa cosa qui andiamo a fare un grafico che sa tanto di prima mezza, di seconda mezza cioè andiamo a fare il grafico della funzione y uguale 2x più 1 allora come si fa? per prima cosa si rappresenta un piano cartesiano ortoconale sistema di assi cartesiani ortoconali per meglio dire cioè io ho due rette orientate la retta che corrisponde all'asse delle ascisse che parte dall'origine, ha un'unità di misura, ha un verso verso destra e una direzione perché mi divido questa retta orizzontale sul piano e un'altra retta orientale che ha una direzione nel piano a 90 gradi oltretutto per l'osservatore che guarda da, diciamo, verso sul piano bisogna che questa retta si sovrapponga a questa ruotando di 90 gradi verso sinistra quindi un verso deve essere verso l'alto e non verso l'alto dato che questo sia verso destra questo qua deve puntare in alto in maniera questo si chiama asse delle ascisse, questo qua e l'altro si chiama asse delle ordinate poi noi sappiamo dalle scuole medie, ma insomma da cartesi poi sappiamo che a ogni punto del piano corrispondono due coordinate come si vanno a ottenere queste coordinate? andiamo a tracciare la parallela all'asse delle ordinate e troviamo l'intersezione con l'asse delle ascisse questa è la coordinata per esempio 3 poi facciamo la stessa cosa con l'asse delle ordinate e troviamo un'altra coordinata per esempio 2 quindi questa qui è il punto di coordinate 3,2 si dice che ha ascissa 3 e coordinata 3 allora come si fa a rappresentare il grafico di questa funzione? per noi gli elementi che stanno sull'asse delle ascisse sono gli elementi del dominio e gli elementi che stanno sull'asse delle ordinate sono gli elementi del codominio quindi quei due insiemi invece di quelle due rette orientate R e R invece di farle separate le mettiamo incrociate a 90 gradi dopo di che io devo andare a segnare gli elementi del grafico allora cosa faccio? qui segno x e qui calcolo f di x allora se x per esempio viene 0 la y quanto deve fare? 2 per 0,0 più 1,1 viene 1 se x viene 1,y viene 3 se x viene 2,y viene 5 se x viene meno 1,y viene meno 1 ok? allora ho calcolato la mia funzione in 5 casi diversi quindi sono in grado di disegnare 5 punti del grafico allora un punto era 0,1 quindi questo qua il segnale significa andarli ad annerire in questo caso imbiancare col gestore se lo fate con la penna sul quaderno lo state annerendo o colorandolo il secondo sarà 1,3 il terzo sarà 2,5 il quarto sarà meno 1 meno 1 meno 1 poi meno 2 meno 2 meno 2 adesso mi accorgo che se io unisco questi punti questi punti si trovano tutti sulla stessa retta questo perché perché se abbiamo studiato geometria analitica sappiamo che questa nel piano è l'equazione di una retta quindi io non ho bisogno di disegnare di calcolare tutti i valori della mia funzione per disegnarne il grafico ma una volta che mi sarebbero passati due valori due punti del grafico se sapevo che tutti gli altri punti del grafico tutti e soli gli altri punti del grafico stavano tutti sulla retta congiungendo questi due punti prendevo congiungevo quei due punti del grafico disegniamo la retta e ottenevo tutti i punti del grafico allora dov'è nascosta la mia funzione? la mia funzione è nascosta per esempio allora 1 3 la mia funzione è nascosta qui la freccia come si fa ad andare da x a f di x? si parte da x si va in verticale fino sul grafico se io in generale che parto da un punto x quando arrivo sul grafico arriverò sul punto di coordinate x f di x se adesso mi dirigo in orizzontale verso l'asse delle ordinate arriverò dove esattamente atterrerò sul punto che ha coordinato sull'asse delle ordinate f di x e questa è la coordinata x la prima ma il grafico ha coordinate x f di x quindi stavolta se vado sull'asse delle ordinate estraggo la seconda coordinata che è ok? e quindi disegnare il grafico di questa funzione è particolarmente semplice adesso voglio sapere questa funzione è iniettiva questa funzione è subiettiva nel capire se è iniettiva che devo fare? se ogni punto no quella è subiettiva iniettiva se parto da x diverse devo arrivare x1 x2 f di x1 f di x2 iniettiva che significava? accedi distinti colpiscono bersagli distinti cioè se x1 è diverso da x2 f di x1 deve essere diverso da f di x2 è vero? è vero? perché si? allora se io ho per grafico una retta la mia funzione è sempre iniettiva? quando è che non è iniettiva? quando il grafico è una retta orizzontale se per esempio mi avessi come grafico una retta orizzontale allora per esempio diciamo che questo valore è 2 allora che significa? che la funzione vale sempre 2 e ovviamente tutti i bersagli colpiscono il punto 2 quindi la funzione non è iniettiva invece in questo caso si perché? cos'è che è cambiato? il coefficiente davanti alla x è diverso da 0 allora cosa vi dice questo coefficiente? se voi andate a fare in generale se voi avete y uguale mx più n allora scriviamolo per x1 e scriviamolo per x2 facciamo la differenza quanto viene y2 meno y1 uguale m per x2 meno x1 allora cosa mi dice? cosa come faccio a sapere se la mia funzione è iniettiva? se x2 è diverso da x1 che vuol dire che x2 meno x1 è diverso da? 0 allora se questo è diverso da 0 anche questo deve essere diverso da e quando è che questo succede? quando m allora se questo è diverso da 0 ed m è diverso da 0 anche questo è diverso da 0 quindi quando m è diverso da 0 la mia retta avrà un grafico che sta salendo oppure sta scendendo e quindi quando andrò a quando partirò da due valori diversi otterrò due risultati diversi e quindi la mia funzione è iniettiva se invece m è uguale a 0 come in questo caso se m è uguale a 0 se m è uguale a 0 la retta per esempio che y è uguale a 3 ha un grafico orizzontale e in questo caso la mia funzione non è iniettiva è costante ma non è iniettiva ma non è iniettiva professore ma quindi anche una parabola stiamo parlando di rette mi sentito parlare con una parabola? una cosa alla volta stiamo parlando di questo tipo di funzione qua y uguale mx più m ok però nel grafico noi abbiamo fatto la funzione 2x più 1 quella funzione là abbiamo stabilito che è iniettiva è subiettiva è subiettiva sì o no? come si fa a vedere se è subiettiva? quando faccio queste frecce devo colpire tutti i punti dell'asse y li colpisco tutti qua colpisco quelli di sopra e qua qua colpisco quelli di sopra cioè se voi prendete un qualunque punto dell'asse y io se vado in orizzontale sul grafico e vi vado in verticale sull'asse x posso trovare una x tale che mx più n faccia x quindi è subiettiva cancelliamo qua allora questa qua è di univoca allora se è più univoca è invertibile cioè esiste la funzione immersa come si fa la funzione immersa? per fare la funzione immersa io cosa devo fare? devo dato y cioè il bersaglio ricavarmi x quindi cosa scopro? che 2x è uguale a y meno 1 e poi scopro che x è uguale a y meno 1 mezzi cioè y meno 1 o però questa non è la funzione immersa perché la funzione parte sempre da x e ha valore in y quindi quindi vi ricordate? dovevamo scambiare la freccia scambiare la freccia che significa? scambiare il ruolo x e x quindi la funzione immersa la funzione immersa y uguale 2x più 1 è x uguale x mezzi meno 1 adesso il grafico della funzione immersa lo faccio qua sotto allora più o meno la funzione immersa è fatta così in 1 vale 0 qua siamo a meno un mezzo e poi per grafico una retta allora come si ottiene quella retta da questa retta qui geometriamente quindi vi faccio solo il grafico senza tutti questi valori vi faccio il grafico qua in maniera un po' più funita allora questa è la retta 2x più 1 questa è y uguale 2x più 1 e questa è la retta y uguale x mezzi meno 1 come si fanno a ottenere queste due rette una dall'altra? è molto semplice immaginate vuoi disegnate questo sul vostro quaderno poi immaginate mettete la mano sopra il quaderno immaginate che la mano si sia inchiostrata con poi girate la mano così e andate e vi appare questo grafico qua cioè a livello geometrico significa fare diciamo una simmetria rispetto alla bisettrice del primo quadrante ho detto in altro modo prendete guardate il foglio dall'altra parte in trasparenza e guardatelo mettendo l'asse x in verticale io giro il foglio l'asse x lo metto in verticale lo guardo in trasparenza e vedrete esattamente il grafico ok? che significa in altri termini prendere qua ci potrebbe un gessetto colorato prendere la non si dice del primo terzo quadrante se io faccio la simmetria di questa rispetto a questa cioè la ribalto rispetto a questa vedrete esattamente questo simmetria simmetria significa per esempio che questo punto viene ribaltato questo stato viene ribaltato simmetria significa che vi verrà questa letta qua che poi sarà esattamente questo simmetria vuol dire che questa retta qui viene ribaltata rispetto alla quindi voi avete un modo geometrico di controllare che la funzione immersa che avete calcolato sia corretta andate a fare il grafico se corrisponde alla se quel grafico è il simmetrico di questo rispetto alla bisettrice del primo terzo quadrante è l'immersa ok? adesso andiamo a vedere un caso un altro caso molto più da un lato molto più facile e dall'altro lato no il grafico della funzione x quadro io adesso vado a disegnare la funzione y uguale x quadro ottengo questo grafico ottengo questo grafico punto otterrò il grafico di una parabola con la concavità di volte verso l'alto con il vertice nell'origine e va bene e va bene e va bene e va bene adesso che succede? che se io prendo due punti simmetrici per esempio più 1 e meno 1 allora che succede? qua e qua il quadrato di meno 1 fa 1 e il quadrato di più 1 pure 1 fa che vuol dire? che non è iniettivo che non è iniettivo perché ci sono due arcieri distinti che colpiscono lo stesso bersaglio e invece lo rimangono subiettivo perché mettiamo il bersaglio meno 1 chi lo colpisce? nessuno come si va a vedere se un bersaglio è colpito? fai la retta orizzontale per quel bersaglio vabbè qua sta fatto male anche l'asse del scesso quando vai a fare questa retta orizzontale se la retta non interseca il grafico vuol dire che quel bersaglio non è colpito quindi questa funzione non è né iniettiva né subiettiva quindi se vogliamo costruire la funzione immersa dobbiamo faticare perché non ce l'ha questa l'immersa allora qui ci sono due problemi e però vedete però se io giro il mio faccio quell'operazione geometrica così come ho detto prima cioè vado a guardare in trasparenza dall'altra parte scambiando l'asse x e l'asse x e faccio la simmetria rispetto all'apisettrice la mia parabola come diventa messa? diventa messa così ma se la mia parabola diventa messa così dovrebbe essere questo il grafico della funzione immersa ma anche no perché questa è la funzione immersa abbiamo detto non ce l'ha allora per capirci qui ci sono due problemi un problema è meno importante cioè la funzione non è subiettiva che significa che la funzione inversa ci può essere ovviamente se io tolgo questo dal codominio che significa che quando riscambio questo non sta nel dominio quindi io il mio dominio nella funzione immersa non sarà tutto r ma saranno solo i numeri da 0 in pochi è giusto? sì perché la lice quadrata si può fare solo dei numeri maggiori o uguali a 0 però c'è un problema che la mia funzione non è neanche iniettiva lo vedete che ho due arcieri che colpiscono il stesso bersaglio allora io qua se io prendo un arciere di qua e vado là sul grado questo arciere effettivamente colpirebbe due bersagli perché se la giro semplicemente così sto dicendo che questo qua reagisce a tutte e due ma se reagisce a tutte e due non è una funzione perché una funzione non può avere due valori allora come devo fare qua? e qua sono costretto a fare una scelta più dolorosa cioè non è prima della mia funzione avevo modificato solo il codominio che corrisponde al dominio della funzione immersa quindi è una modifica minima non è la stessa funzione perché la funzione è specificata da dominio, regola e codominio cioè dominio, funzione e codominio però se modifichi il codominio il grado della funzione è mica cambiato qui invece se voglio la funzione immersa devo scegliere e se devo scegliere qual è una scelta che ha senso? posso anche scegliere che ne so che radice di 1 fa 1 e che radice di 4 fa meno 2 però ha più senso scegliere o sempre la radice positiva o sempre quella negativa mettiamo di scegliere quella positiva allora che faccio? quella negativa la la accetto e allora ottengo questo questo chi è? effettivamente è una funzione immersa ma allora voi avrete parte una funzione f x uguale x quadro poi ci avrete x uguale r y uguale r per poterla invertire voi cosa fate? togliete prendete f di x uguale x quadro poi prendete x uguale 0 più infinito x uguale x uguale 0 più infinito quindi avete modificato sia il codominio ma quello non era un grave problema perchè io modificando il codominio ho tolto soltanto i bersagli che non mi rimano colpiti quindi il mio grafico non cambiava poi però modificare anche il dominio ma se io modifico il dominio mezzo grafico mi sparisce cioè questa non è la stessa funzione di prima si chiama funzione x quadro ristretta ai numeri positivi ai numeri non negativi ci siamo fino a qui ora questa qui quindi 0 infinito è questa semiretta qua 0 infinito è quest'altra semiretta qua come codominio qui la funzione è iniettiva sì perchè vedete che se io faccio il quadrato di un numero più grande vabbè qua devo arrivare oltre mi viene un valore più grande è subiettiva? sì perchè quando vado a fare qualunque livello orizzontale la mia mezza parabola intersega la retta orizzontale o qualcuno potrebbe riporto questa cosa perchè fu riportata da un mio collega quando ero al primo quando stavo dall'altra parte che non aveva c'era era errato quello che diceva lo studente però diciamo sfortunatamente il professore non l'ha prese bene e le ultime notizie poi disse che lo studente si era trasferito al filosofo allora quale fu l'obiezione dello studente? lo studente diceva no, questa funzione non è iniettiva il professore cominciò a fare una faccia strana perchè? meno 0 e più 0 elevati al quadrato fanno entrambi 0 meno 0 al quadrato più 0 al quadrato perchè? lo studente non aveva raggiunto allora io per dimostrare che la funzione non è iniettiva devo trovare due arci e due elementi distinti che mi devono lo stesso quello della funzione che sono gli stessi elementi 0 al 3 meno 0 e più 0 non sono distinti ma sono lo stesso elemento è chiaro? quindi tu lo puoi chiamare meno 0 lo puoi chiamare più 0 ma sempre 0 è non sono due arci e distinte meno 1 e 1 sono distinti ma meno 0 uguale a distinte è chiaro? quindi il motivo per cui la sua osservazione non funzionava era questo però il professore non l'ha presa tanto bene e comincia a dire ma io sullo stesso posto del treno non ci posso mettere due persone ok adesso vedete che quando io faccio questa operazione geometrica cioè la bisentesi rispetto al primo e terzo quadrante ottengo effettivamente il grafico della funzione di immezzo chi è questa funzione di immezzo? allora io avevo y uguale x quadro per indicare x che devo fare? la radice quadrata di y attenzione cancellare questo mezzo grafico significa quando io facevo la radice quadrata come soluzioni ne ho due cioè se il numero è negativo non c'è infatti la funzione non è la subiettiva la radice quadrata di meno 4 come numero reale non esiste ma la radice quadrata di 4 c'è sia 2 che meno 2 la radice quadrata di 9 c'è sia 3 che meno 3 perché metto questa? perché io già so che mi sono dominio e codominio erano numeri positivi quindi questa radice deve avere la determinazione positiva e quindi chi è questo grafico e il grafico della funzione? no y uguale a radice quadrata di x apposta ho lasciato l'ultimo passaggio algebricamente devi sempre scambiare x e y perché la freccia deve andare all'altra chiaro? quindi questo è il grafico della funzione della radice quadrata e vediamo un po' chi è il grafico di quest'altra funzione? se io prendo l'altra mezza parabola questa che funzione è? y uguale meno la radice quadrata e questa è la funzione che è l'immersa è il caso in cui invece del dominio invece di prendere 0 infinito se io prendevo come dominio meno infinito 0 cancellavo l'altra mezza parabola l'altra mezza parabola in questo caso mi rimaneva solo questa mezza parabola qui e quando vado a girare diventa questa qui perché x uguale a meno radice di y? perché io so che x è una delle due radici di y ma so anche che siccome mi sono ristretto ai negativi e la radice di y quando la faccio in genere la radice senza nulla indica quella positiva chi è qua la x è meno radice di y perché se per esempio qua ho 4 qua mi viene meno 2 la radice di 4 fa 2 si intende quella aritmetica se non ci metto il segno davanti e qui ci devo mettere meno radice di y quando vado a scambiare la y con la x e mi viene da x uguale a meno radice di x ed è giusto perché quello è il grafico della funzione y uguale a radice di x questa è la funzione opposta ed è meno radice uguale a x è chiaro? quindi come avete visto fare ok come abbiamo visto allora cerchiamo di fare un riassunto noi abbiamo definito il concetto di funzione abbiamo definito il concetto di immagine e controimmagine abbiamo visto che la controimmagine rispetta tutte le rispetta l'unione, rispetta l'intersezione, rispetta il complementare invece abbiamo visto la controimmagine per esempio quindi va beh, rispetta il complementare poi il resto non vi voglio confondere invece l'immagine è diretta rispetta solo l'unione e quanto riguarda l'intersezione l'immagine della intersezione è contenuta, solo contenuta nella intersezione immaginate ecco per esempio nella funzione x quadro ecco, questo è proprio esattamente l'esempio che fa che è causante per quel discorso lì f di x uguale x quadro x appartenente a r che è l'immagine dei numeri non negativi quando io avevo la mezza parabola di qua facevo l'immagine che mi vediamo tutti i numeri non negativi chi ha l'immagine dei numeri negativi? o diciamo non positivi? ma quanto mai? questi sono i numeri non negativi se vado a fare l'immagine qua mi diventano di nuovo tutti i numeri non positivi qui mi diventano di nuovo tutti i numeri non negativi qui ha invece l'immagine della intersezione si vado a fare l'immagine di meno infinito zero intersecato zero più infinito questo viene l'immagine del solo zero che fa il solo zero chiaro? ma d'altro canto se io invece vado a fare l'intersezione delle immagini questo è il contenuto che l'immagine di meno infinito zero intersecato l'immagine di zero infinito che fa zero infinito vedete questo è sempre lo stesso insieme quando faccio l'intersezione l'intersezione di a con a fare insieme a quindi vedete se io faccio l'intersezione delle immagini le immagini dei negativi sono farevi dire con la disuguaglianza stretta tanto si capisce lo stesso le immagini dei negativi sono i positivi le immagini dei negativi sono i positivi le immagini dei positivi sono i positivi l'intersezione delle immagini sono sempre tutti numeri così invece l'immagine dell'intersezione è solo di numeri quindi vedete qua c'avete il solo zero qui c'avete tutta la sintetica questo è il caso proprio più emblematico di quanto possano essere diversi questi due insieme se addirittura invece di prendere la funzione puoi escludere lo zero per qualche motivo allora cosa mi succederà che vabbè l'intersezione non c'è però vabbè è polviante questo ok comunque in questo caso l'immagine dell'intersezione è un solo punto l'intersezione dell'immagine è tutta una ok ok poi abbiamo visto appunto il concetto di funzione iniettiva abbiamo visto il concetto di funzione subiettiva iniettiva ogni bersaglio viene colpito al massimo da un arciere subiettiva ogni bersaglio viene colpito al minimo da un arciere e allora posso leggere tutto all'indiettiva se leggo tutto al contrario ottengo la funzione inversa non sempre la diciamo poi abbiamo imparato a fare il grafico di alcuni tipi di funzioni elementari prima abbiamo iniziato con le funzioni che sono date da polinomi di grado 1 dico y uguale a mx più n ok la y è un polinomi in grado 1 della x questi grafici mi danno tutte le rette possibili a seconda di m e m tranne quelle verticali quindi mi possono dare una retta orizzontale mi possono dare una retta obliqua non mi possono dare una retta verticale perché il grafico della retta verticale si ottiene dall'equazione nel piano x uguale costante ma se l'equazione è x uguale costante come la ricavate la y? se andate a fare e cercate di fare il grafico vedete che sarebbe un arciere che compisce infiniti pezzagli e non è una funzione quindi le funzioni corrispondono i grafici delle funzioni date dai polinomi di grado 1 corrispondono a tutte le rette tranne quelle verticali tutte queste rette sono funzioni invertibili tranne quelle orizzontali perché quando le andate a girare diventano verticali e abbiamo visto che appunto sono invertibili quindi se m è diverso da 0 allora la funzione mx più n è inutile ok? infatti quando voi dovete invertire mx più n cosa fate? fate x uguale y meno n fratto m e poi scambiate la x uguale x ma per fare per ricavare la x dovete dividere m se m è uguale a 0 questo non si può fare questo se e solo se però stiamo parlando di m diverso da 0 se m è diverso da 0 questa è uguale a questo se e solo se x uguale a x poi per invertire basta scambiare la y con la x quindi quindi l'immersa di una funzione che ha per grafico una retta di un poliglame di progrado e ancora un poliglame di primo caso poi abbiamo fatto un altro caso solo quello poi gli altri casi li vedremo a esercitazione abbiamo fatto abbiamo cercato di invertire la funzione y uguale x quadro e allora abbiamo incontrato subito dei problemi perché questa funzione non è invertibile vabbè non è invertibile perché non è suriettiva va bene ma se non è suriettiva basta restringere il codominio perché il codominio invece di prendere tutti i versaggi di prima prendo solo quelli che vengono con e vabbè ma pure che fai così non è invertibile perché non è neanche iniettiva e allora per fare questo devi restringere anche il dominio ma quando devi restringere il dominio ti cancella un pezzo di grado quindi la funzione cambia in maniera più pesante allora la funzione sarà sempre x quadro però in questo caso per esempio l'ultima che era rimasta disegnata sulla lavagna era quella con il dominio i numeri non positivi e con il codominio i numeri non negativi e la funzione era x quadro ma l'inversa era meno radice di x che se io so che il dominio è fatto dai numeri negativi negativi so che quando devo fare la radice di 9 devo prendere la radice con la determinazione negativa quindi x sarà meno 3 e poi dal punto di vista grafico il grafico della funzione di inversa si faceva come prima cioè facendo la simmetria rispetto alla bisettrice del primo terzo quadro quindi prendete questo lo girate e grafico della funzione di inversa si aumenta ok modulo il fatto che io non sia un bravo disegnatore ok naturalmente l'immersa della funzione x quadro ancorché considerata sottomini e epotomina diversi si può fare ma non è affatto un polinome di grado 2 è una radice quadratica mentre invece l'inversa del polinome di grado 1 era un polinome di grado 1 quindi abbiamo cominciato a fare qualche grafico di soluzione alimentare e delle loro immerse per oggi basta